Il sindaco sembra cosa fatta l'accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega per un governo, lei qualche tempo fa ha detto sarebbe una ghiattura per il sud. No, lo commento io, faccio una valutazione sul governo dopo che il governo sarà fatto, per ora non ho nulla da dichiarare, grazie.